L'uomo è irragionevole, illogico, egocentrico, non importa, amalo. Se fai il bene, ti attribuiranno secondi fini egoistici, non importa, fai il bene. Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici, non importa, realizzali. Il bene che fai verrà domani dimenticato, non importa, fai il bene. L'onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile, non importa, sii franco e onesto. Quello che per anni hai costruito, può essere distrutto in un attimo, non importa, costruisci. Se aiuti la gente, se ne risentirà, non importa, aiutala. Da al mondo il meglio di te e ti prenderanno a calci. Non importa, dai il meglio di te. Non importa, dai il meglio di te.